Ad agosto tantissimi turisti però al mare, molti hanno scelto questo tipo di vacanza. I dati della CNA Turismo parlano di 35 milioni di presenze sotto l'ombrellone negli stabilimenti balneari appunto nel mese di agosto. Numeri che dunque confortano rispetto all'andamento molto negativo di giugno e luglio. Puglia, Toscana ed Emilia Romagna conquistano il podio delle regioni con maggiore afflusso sulle spiagge e subito dopo Sardegna, Lazio e Campania. Presi d'assalto pur nel rispetto delle regole emergenziali i punti di ristoro negli stabilimenti. Dati positivi anche questi che fanno sperare poi anche in settembre ovviamente condizioni meteorologiche e sanitarie permettendo.